Grazie. Provo brevemente, prima di lasciare la parola a Alessandro, a provare a illustrare qual è l'azzardo teorico, la forzatura teorica che noi abbiamo provato a operare mettendo insieme progetti e attori tanto eterogenei. Stato d'eccezione, è vero, noi siamo partiti da lì, spazi d'eccezione naturalmente richiama immediatamente lo stato d'eccezione, ma siamo partiti da lì per provare a superare le letture esistenti dello stato d'eccezione. Naturalmente hai già citato Agamben, dopo gli attentati di Parigi è arrivato a dichiarare il fatto che l'applicazione dello stato d'eccezione, la sua normalizzazione, la sua continuità oggi arriva a minare lo stato di diritto che si trasforma in uno stato di sicurezza, l'età di sicurità che appunto si sostituirebbe allo stato di diritto. Ci sono stati effettivamente a partire dai primi anni del 2000, c'è stato di nuovo un massiccio ricorso dello stato d'eccezione, per esempio negli Stati Uniti in conseguenza degli attentati alle torre gemelle, per esempio a Parigi conseguentemente agli attentati al Bataclan, successivamente ancora abbiamo visto lo stato d'urgenza applicato in Belgio. Abbiamo effettivamente assistito ad una normalizzazione di questo strumento eccezionale. Agamben rinforza dunque questa lettura per cui secondo lui ontologicamente la natura contemporanea del potere sarebbe proprio caratterizzata dall'eccezione. La crisi di sovranità si legge soprattutto attraverso l'applicazione e la normalizzazione dell'eccezione. Dall'altra parte che cosa c'è? C'è una lettura avversa a questa ipotesi che è quella di Toni Negri che dice, soprattutto lo dice in un articolo di qualche anno fa, Toni Negri dice, no guardate lo stato d'eccezione non descrive un'ontologia del potere oggi, non descrive l'essenza della crisi della sovranità. Toni Negri diceva l'essenza della crisi della sovranità oggi si dispiega soprattutto attraverso la governance e dovremmo guardare allo stato d'eccezione come uno strumento quantitativo. Lo stato d'eccezione serve quando al potere costituito serve più coercizione, più controllo, più violenza eccetera. In entrambi i casi però lo stato d'eccezione e l'eccezione rimangono saldamente dalla parte dei poteri costituiti. Cioè l'eccezione descrive in ogni caso nell'una e nell'altra lettura un attributo del potere costituito. Punto. Allora nel libro troverete artisti, attivisti, fotografi che hanno provato a riflettere, per esempio su cosa? Per esempio troverete il contributo di Marco Assennato, filosofo, e Wolfgang Natlasen, troverete il contributo magari Ludo, scusa se ti faccio questo agguato così senza dirtelo. Tra poco riusciamo a mandare l'immagine che è presente nel libro, vedrete una fotografia di Wolfgang Natlasen in cui si vede Place de la République a Parigi con in mezzo alla piazza un mezzo di polizia. Ci sono poi dei contributi, ecco questa è la fotografia di Natlasen, c'è il testo teorico di Marco Assennato. C'è immediatamente una cosa, tra l'altro faccio una parentesi, che mi sembra che vada a inficiare la lettura agambeniana dello stato d'eccezione come qualcosa che poi sostanzialmente rivela la nuda vita e che deve trovare una risposta che è una risposta puramente destituente. Laddove da mesi è in vigore lo stato d'eccezione è nato per esempio il movimento contro la loi Travail, che non mi sembra una cosa da poco. Certo non si può dire che lo stato d'eccezione politicizza la società, ma non si può neanche dire che la riduce alla nuda vita, che la società viene ridotta all'impotenza. Il movimento della loi Travail è un movimento radicalissimo, oggi, proprio oggi, 14 giugno 2016, ne abbiamo avuto una prova ed è un movimento tra l'altro che anche per quanto riguarda la storia politica, la cultura politica della Francia, delle sue organizzazioni sindacali, ha comunque dei caratteri di grossa innovazione, sebbene non si capisca ancora quale sarà il risultato di questa lotta, però sicuramente ne vediamo una persistenza importante, laddove, ripetiamolo, è in vigore da mesi uno stato d'eccezione che per esempio, se prendiamo le mobilitazioni che erano in programma per la conferenza climatica COP21, lì si aveva inciso su una chiusura dell'agibilità dello spazio politico dei movimenti, riducendo veramente in forma infinitesimale le possibili resistenze a quel vertice sul clima. Dunque, c'è questo tipo di riflessione, c'è un tipo di riflessione per esempio su quello stato d'eccezione che attraverso gli hotspots si evidenzia per esempio sulla Balkan Route. Abbiamo qui, purtroppo abbiamo chiuso il libro prima di Over the Fortress, se no l'avremmo inserita direttamente, ma ci sono per esempio gli esempi di alcune reti, per esempio Moving Europe, che si occupa di, attraverso un progetto di comunicazione online, utilizzando internet e social media, si occupa di informare i migranti su quei punti, su quei passaggi dei confini, dove i confini rimangono appunto aperti e sono fuori dallo stato d'eccezione dei campi, degli hotspots, eccetera. Quindi questo da una parte sicuramente c'è, non neghiamo che lo stato d'eccezione, soprattutto quando si presenta come lo strumento giuridico che è, ha quella natura lì di, ovviamente di strumento in mano al potere costituito. Ma noi abbiamo provato qui a fare una piccola forzatura teorica, cioè quello di dire, intanto eccezione, a provare a utilizzare il termine di eccezioni costituenti, che è un'assoluta contraddizione in termini. Perché noi abbiamo voluto usare questo termine? Innanzitutto perché descriviamo con il termine eccezione costituente, per esempio, una forma di autogoverno, per esempio un'occupazione che ha una storia ed è produttrice di diritto, o altri esempi simili. Perché eccezione non va solo visto come termine nel suo significato statistico, cioè come qualcosa di passeggero, di saltuario, di eccezionale appunto. Ma eccezione, per esempio, se prendiamo il diritto romano, è un termine che oggi è traducibile come obiezione. Quindi eccezione significa anche obiezione a cosa? Obiezione al potere costituito, obiezione all'ordine costituito. E noi vediamo come ci sono molti spazi d'eccezione, che sono spazi costituenti, che in qualche modo sono ovviamente zone extraordine, sono zone fuori legge, sono zone che, come lo stato d'eccezione, strumento giuridico, sono in un rapporto paradossale con il diritto. Sono fuori legge, ma sono strumenti di produzione di diritto. Allora in questo senso troveremo nel libro diversi esempi. Esempi, per esempio, l'esempio del sistema di confederalismo democratico da Rojava, che noi ben conosciamo e su cui abbiamo discusso moltissime volte. L'esempio di occupazioni che si sono opposte, per esempio, alla privatizzazione di spazi pubblici. Abbiamo inserito alcune delle occupazioni veneziane. Penso Cabembo, che è un'occupazione vittoriosa nell'avere respinto un progetto di privatizzazione di un edificio dell'Università Cafoscheri di Venezia. Penso anche, e Ludo ti chiedo se magari puoi fare vedere, per esempio, il progetto di Forensic Architecture. Forensic Architecture è un'agenzia che si occupa di architetture diritto umani con sede al Goldsmiths di Londra. hanno presentato, questa è una pagina del libro ovviamente, hanno presentato questo progetto che si chiama Left to Die Boat ed è un progetto interessantissimo perché ribalta, per esempio, la logica delle tecnologie di sorveglianza sul Mediterraneo. Loro guardano al Mediterraneo come appunto spazio d'eccezione e qui hanno usato, per esempio, application per seguire il traffico marittimo, foto satellitari e altri strumenti di mappatura tecnologica per dimostrare come una barca di migranti partita dalla Libia nel 2011 nel mezzo del Mediterraneo pur essendo stata avvicinata moltissime volte da altre imbarcazioni soprattutto dell'esercito, della Guardia Costiera, eccetera, fosse poi in realtà stata lasciata alla deriva e poi su, credo, 70-80 persone di quell'imbarcazione ne fossero poi morte 60 nonostante la barca fosse stata avvicinata più volte da cosiddetti mezzi di salvataggio che per il diritto marittimo avrebbero dovuto salvare le persone a bordo. Abbiamo quindi provato a pensare l'eccezione in una doppia accezione e scusate il gioco di parole non so se ci siamo riusciti però volevamo provare a costruire una narrazione che non è solo una narrazione di difficoltà, di assoggettamento ma che è una narrazione anche di ribellione e costruzione di stati d'eccezione all'ordine costituito che sono fortunatamente nonostante il periodo buio sono fortunatamente ancora all'ordine del giorno. Io mi fermo qui per ora e do la parola a Alessandro che forse ha anche qualche altro esempio da farvi di cose che sono poi nella mostra al sale oltre che nel libro.